7.000 visitatori, 450 espositori, 2.500 incontri B2B. Torna con Next, il marketplace di Confindustria. Occasione unica di crescita e networking tra aziende e partner dell'innovazione e del business. In un'edizione ancora più grande e ricca di contenuti. Con Next 2020 dà di più. 4 driver tematici. 3 grandi novità per facilitare le alleanze tra i player. Prodotti flagship, laboratori per lavorare insieme e sviluppare conoscenza, incentivare relazioni e favorire partenariati. Focus filiere e poi networking room tematiche. Tool per matching B2B e un'app dedicata. Con Next è competitività, innovazione, internazionalizzazione per affrontare insieme le sfide del futuro. Signori, alla prossima edizione, perché questo paese ha potenzialità incredibile. Con Next 2020, 27-28 febbraio, Mico, Milano. Entra nella più grande business community italiana. Moltiplica il tuo valore. Scopri di più su connext.confindustria.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.